L'ospedale Mazzini di Teramo si aggiorna dal punto di vista tecnologico. E' stato installato il sistema robotico Da Vinci X-AI, l'unica tecnologia per accedere a una reale chirurgia robotica. Un sistema che rappresenta l'ultima evoluzione della chirurgia mininvasiva successiva alla laparoscopia, in cui il chirurgo non opera con le proprie mani ma manovra un robot a distanza, rimanendo seduto a una console posta all'interno della sala operatoria. Un potenziamento che per l'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri rappresenta anche una risposta alle accuse mosse, in particolare dell'opposizione regionale. Questa è una delle risposte a queste accuse, perché in questi anni abbiamo fatto veramente tante cose, un'evoluzione importante da un punto di vista sia strutturale sia del personale. Oggi viene presentato il robot, che è stato installato presso il Mazzini e quindi sarà a disposizione di tutta l'azienda. Si parla di innovazione tecnologica per quanto riguarda la chirurgia robotica e quindi dei vantaggi sia clinici che sul paziente. Sarà attuato, sarà messo in atto per diverse discipline e quello che abbiamo potuto verificare questa mattina è che ci sono dei grandi risultati anche in breve tempo. Quindi si dà la possibilità paziente di essere dimesso dopo pochi giorni di degenza. Il sistema computerizzato trasforma il movimento delle mani in impulsi che vengono coinvogliate le braccia robotiche e potrà essere utilizzato per numerose tipologie di intervento. Costo dell'impianto, compreso i servizi, oltre 3 milioni di euro. Mancava questa ciliegina sulla torta, tutte le altre asla abruzzesi avevano il robot, gli ospedali hub dell'Abruzzo avevano il robot, Teramo non lo aveva. Dovevamo eliminare questo gap che c'era e anche noi quindi siamo utilizzati di uno strumento all'avanguardia, ma soprattutto di dare una svolta clinica agli interventi per alleviare, ecco, per rendere più preciso, più all'avanguardia l'intervento a cui noi dobbiamo sottoporre.